Come si tratta di migliori 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 in situazioni economiche dell'Unione europea, anche in termini sociali, stiamo ancora facevamo livelli non accettabili, esclusione sociale e povertà. La prima cosa che dobbiamo avere in mente quando trattiamo problemi sociali in Europa è che dobbiamo proporzare proposti concreto e soluzioni concrete, per migliorare la situazione dei standardi e delle condizioni lavorate di tutti i cittadini europei. In questo rispetto, il pilario europeo dei diritti sociali potrebbe essere una strada fondamentale per raggiungere i risultati. Ma per questo, dobbiamo assicurare che questo pilario non è un pochino, non è solo una lista di principali, o solo un pensiero di pensare. In questo rispetto, abbiamo, dal punto di vista dell'Unione europea, abbiamo 4 areasi in cui crediamo che il pilario sociale dovrebbe fare una differenza per le persone. Il primo rispetto è alla economia, la capacità per la economia europea di recuperare in una forma sostenibile e la capacità per la economia europea di creare nuovi lavori. Abbiamo bisogno di milioni di lavori, e abbiamo bisogno di assicurare che questi lavori sono lavori quali. In questo rispetto, abbiamo bisogno di investimenti. Investimenti sociali, investimenti per infrastrutture, investimenti pubblici, investimenti in educazione, in innovazione, e politica industriale per l'Europa. Tutti questi elementi sono parte della perspectiva e strategia che la Unione europea dovrebbe mettere in place, ma bisogna anche incluire questa perspectiva nella pilario sociale. Il secondo elemento è che bisogna assolutamente migliorare la situazione dell'economia, anche sul senso della demanda. Non è solo di aumentare la produttività, aumentare la competitività per le nostre compagnie, bisogna anche assicurare che l'interno della Unione europea è un miglioramento per assicurare che possiamo avere una recuperazione sostenibile. E l'unica modo per assicurare l'interno della demanda è aumentare i lavori delle persone. La Commissione europea lancia una iniziativa fondamentale che è la revisione della postazione dei lavoratori. Questo può realizzare il problema delle inequalities, delle trattamenti e delle competizioni infatti, ma questo non è sufficiente. Dobbiamo iniziare un processo per la convergenza di lavori. La prima cosa per fare è di assicurare la collettiva le relazioni collettive, le relazioni industriali, i dialoghi sociali in diversi paesi. È anche una cosa di rinforzare i diritti delle riunioni e il ruolo dei partenari sociali nel mercato di lavoratore, nella società e nell'economia, per assicurare che la economia può performare meglio. E poi, quando parliamo del pilar sociale, bisogna anche di discutere i diritti dei diritti dei diritti. I diritti dei diritti dei diritti in Europa sono molto ben implementati in alcuni paesi, ma non sono in altri paesi. In particolare, in alcuni settori del mercato di lavoratore, i diritti dei diritti sociali sono semplici. E questi sono i nostri ultimi punti. Per avere un pilar sociale molto ben performante, bisogna, su un'altra parte, garantire i diritti existenti, ma anche per annunciare i diritti ai paesi, ai diritti, ai diritti, ai diritti, ai diritti e ai categori di lavoratori che non performano il stesso tipo di livello europeo. E su un'altra parte, bisogna anche assicurare che c'è un accesso reale, universale ai sistemi di protezione sociale e che possiamo realizzare una convergenza in termini di standard quando riguarda i diritti dei diritti sociali e ai sistemi di protezione sociale. Questo è davvero il più grande risultato che abbiamo davanti di noi. Come assicurare che l'economia può riuscire, che possiamo creare nuovi, quali lavori e che possiamo assicurare che ci sono condizioni di lavoro e condizioni di vivere per tutti, affrontando le inequalities e assicurando che l'economia è ancora attenzione. In questo rispetto, il pilar sociale può essere davvero un grande valore per tutta l'Europa. Grazie!